Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, saluta anche Spidy Vabbè Oggi ci troviamo insieme al più grandissimo Ciro che ha questa mano lui e io che ha quest'altra mano In un nuovissimo video appunto Allora, oggi ho costretto Barta a comprarsi il pasto perché gli vogliamo Perché io scioppo, vedete raga? In realtà me lo regalo tutti lui Io regalo solo il primo posto peggio di Boverone che risparmia tutto E quindi noi siamo nella session 3, vado sul pasto, questo è il nuovo posto No, non mi sono sbagliato No, faccia vedere velocemente Allora, le skin più belle, secondo me oltre questa Carina Anche lui è molto carino però, versione quella lì Cosa qui non mi piace Lei è bellissima È bella, sì Quella sotto sì è ganza, è molto sweet Cioè non è mi piace tanto Lei è un'altra versione quella lì che mi piace Anche questa qui è fighissima È sempre immagine quella lì, questa qua sopra però col casco Che è così anche così è carino Poi qua c'è origine che è 1,7 per cui l'ho capito Che dovrebbe essere molto figa Anche quella lì, la skin quella sotto Questo è carino Non è, mi piace tanto Però Questo è figo Questo sembra tipo un gatto Cioè il cosmo mi piace Soprattutto anche Però è troppo anime Secondo me Infatti no, a me le skin anime non mi piacciono Però mi piace il, come si dice Il concept Poi c'è l'origine però un altro colore Poi abbiamo L'origine che si trasforma Tipo come lo scienziato e così via E poi lei di un altro Il rosa Ma niente è un brutto secondo me E poi raga Per il film che sta per uscire Faccia vedere anche il balletto, grazie Come fa nel film, no? Sì Però che gli asci la del piccone Perché sì Poi c'è anche la skin Di Frawler Che è bella Sì Bella Fai vedere lo sticker che è bellissimo Questo? Sì Gazzissimo E anche la prima cosa No vabbè Come nei fumetti Chi ha i fumetti da Marvel Lo scrive qua sotto Poi faccio vedere gli ominispada Gli ominispada Gli omni Omni Quello che probabilmente cambia l'aspetto Che poi customizzare Le guardie che sono le impugnature Poi anche il colore sotto E tipo vi ricordate la sezione quella È la stessa dimentica cosa E poi il suono Anche il suono Facciamo vedere il suono L'ultimo suono Mettiamo tutte le caratteristiche dell'ultimo Tutte le caratteristiche dell'ultimo No Uno 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 Ah così Sì Per far vedere proprio quella Questa è carina Bellissimo Tre caratteristiche dell'ultimo Oh mio dio Questa è carina Anche l'ultimo Quello sopra Allora Rega Questo dovrebbe essere fighissimo Questo mi sembra più un arco Da piccola Sì Però devi ammettere Il colore è l'ultimo Il colore è più bello Veramente bello Anche questo è tanto carino Perché tipo Tu sai mi ricordo Tipo lo schermo Quello lì di erro Che Dei personaggi Da serie di video Giochi leggendari Molto 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 figo Quindi Andiamo qua Andiamo su Entri su di forno E tu gli scioppiamo No No Ok No L'ugraina Perché No Mi dissocio E Ragazzi Allora Sì No Già manco Il feedback Raga Allora Raga Raga Il pass Battaglia Sbloccato Ecco Ecco Vagia Ecco Vagia E riscatta Adesso Andiamo qui Allora Prendiamo il piccone Equivagia subito Equivagia Equivagia Doppio Vabbè riscatta riscatta Perché Ah Sei a un chip Subito Il box Penso Ah no Il detaplano Dai Molto detaplano Perché Dai Ma dai È uguale a quello di Iron Man Però Versione più Più Vabbè Però comunque scioppa Non è dubbio Da serie Equivagia No Equivagia Perché Mettiamo una skin E poi andiamo a sciopparci le cose Cioè ci abbiamo rimasto due Perché Scherzo Esca 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 E prendi questi qua Questi due Solo perché voglio utilizzarli tutti Voglio flexare E adesso andiamo sul personaggio E possiamo con quelli sei Farci la cosa Ah questo diventa doppio Carino E poi si riunisce Carino Allora andiamo sul armadietto Cancella tutto intanto Perché guarda che hanno messo questa opzione Che cancella tutto E toglie tutto Poi vado sulla cosa Allora no no Questa qui va bene Guarda Faccio un attimo io Modifica stile Vai su modifica stile Modifica stile ci sono questi stili Però ancora dobbiamo sbloccare di questo Madonna questo Il più bello Il più bello Questo è bello Perché c'ha tipo il rece Questo qui no No Questo qui è bello Anche questo Le versioni normali Con i capelli Normali e sciolti Poi allora Questo qui Visto che non c'ho Prima interozzamento Direi metto questo Che secondo me ci si abbina Sì Oppure se questo No No questo è l'alieno Buconero no No Ma se mettiamo questo Quale Lascia Ah Ah è vero Quello suo Modifica stile Che Ah no quello che ancora Non l'abbiamo sblocato Ok equipaggio E c'è proprio il suo Poi Poi aspetta Poi se facciamo la fine Intanto vi scendiamo Questa è la migliore Che dici Così qui non ancora L'abbiamo sblocato Oppure se questo No i cubi sono brutti Non mi piace Questo Sì Liber volo Liber volo Ci sta Ci sta E quello della skin Anime della season 5 Allora Adesso Modifica stile Ah Ma Quanto cacchio è piccolo Raga quanto è piccolo Aspetta che possiamo Aspetta Eh no infatti No lo scioppiamo Eh vediamo Dopo No Esco Omnispada Omnispada E adesso con 6 Dobbiamo cercare di fare Quello migliore Allora ti dico Questo 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 Non è male Non è male Sì Il migliore raga È questo O questo Comunque Questo Ti scatta Di compenso Di questa categoria Eh sì Allora raga Dobbiamo decidere O questo O questo Ma uguale No perché Se dobbiamo fare tutto questo Per prendere questo Ah tutto Dici Tutta la linea Allora dobbiamo decidere Guarda ti dico Io direi questo Ok Questo qui è bello Vabbè adesso noi vediamo Vai intanto A questo uno È vero questo è bello È appunto Vai vai Equipaggia E Equipaggia Ah Adesso Vedi È uguale È uguale Ah ok Allora va bene Adesso va bene Allora Ah questo 13 Eh Era questo Tutti E questi qui vanno Fennamente schifo Ah no Questi sono i manici Pensavo che erano Erano solo quelli No no Sono i manici Minchia Questi sono mani Stavo male Questo è quello Che ci sta meglio Sì O questo No questo ci sta male Questo Aspetta Ma mi vediamo Favere altre Anche le altre Ricompense Quelle lì Bonus Che lei Ah sì Meglio Sì Aspetta il video Sto durando parecchio Poi Energia multiversionale Va bene Questo sì Poi La cosa Vabbè Lo stile Questo Quello è carino Sì sì Bello Bello Ancolo è tutto Stringo Non ci sta male L'immagine vera Questa è bellissima Bellissima Fammi vedere un attimo Com'è Senza Cioè Favere senza No No Favere Ah ecco Lo stavo Quello lì Sì Sbagliante Questa è bella Questa è bella Perché esce tipo Il pugno Infogato Già 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 Qua Più Sì È più Più Guarda Feli Lo saprà Quare Un gatto Comunque Continuiamo Con gli uomini Spada Ah no Ce ne mancano Due Bellissimo Eh però Il migliore È questo No Ma Questo C'è un patto Quello C'è Eh vabbè Non ce ne abbiamo pochi Vabbè comunque raga Vi chiedo Questo scioppamento Di pass Un bel like Un'iscrizione Al canale E niente Mi raccomando Donate qua sotto 40 euro A CiccioGamer89 E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao